Marco, venne la BSA, vedrete, arriverà qui con l'esercito tra poco Ahà La BSA eh, sì, certo Dai, oh sì, munizioni, erba, no No, me ne deluso il gioco, speravo già in un'erba Mi serve un'erba rossa, se non ti spiace Ok Mi sta parlando Sei tu che stai parlando Quella cos'è Oh oh, ehi, madonna della felicità Ah, non è solo Ah, ok Vieni, Ele Vai su Quello lì era un salto di quattro metri, ma vabbè E ti aspettavo che fosse aperto ancora adesso? Ah, mi butti già la scala? Grazie, grande, Ele Arrivo Voi non provate a salire su questa scaletta, è mia eh, l'ho vista io L'ho vista io per primo Ah, non sembrano interessati, bene Eh 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 Sì, sì, munizioni, dolci munizioni What? Ah no, qui salto giù, va bene Perché mi sembra tanto un livello di scontro con un boss o con qualcosa Sarà che penso male io Oh shit Niente Deve esserci sfuggito qualcosa Le due sante materne riveleranno il cammino Mhm Le due sante materne riveleranno il cammino Ok, allora fammi vedere che c'è prima di là e poi entro in quella porta Ecco, ecco, fatto bene Però un'erba rossa sarebbe stata meglio Ma non voglio fare quello che si lamenta Già bello che mi abbia dato due erbe verdi qui dentro Qui ce la posso mettere? No, non posso mettercela Le due sante materne... ok Allora entro in quella porta Uh, ma c'è un altro piano di sopra Le cose belle Bene Le mettiamo tutte e due È identica all'altra Qualcosa mi dice che non sono solo decorative No shit Vai, metti l'altra Wow, perché parli in inglese tu? Eh? Eh? Non ti hanno doppiato? Non c'era nessuno in giro per l'ufficio che potesse doppiarti? Non so, un bambino? Qualcuno? Ah, ok Ora sì che ci siamo No, non ci siamo un cazzo Doveva aprirsi Doveva aprirsi l'altra porta Ok No, fermi Ok, non c'è niente Guarda Devo per forza fare sta cosa Prima però prendo un po' di erbe E le combino Yes Se combino questa con questa che succede? Ah Non male Non male davvero Ok Va bene Ripongo le porta compresse Dai, andiamo Oh, cazzo What? Ah, ok Perché mi avrebbe sparato Se no, va bene Meglio che mi prenda delle compresse Perché qua muoio malissimo Oh, fuck Sono molte di più Oh, fuck Andiamo, Elena Eh, lo so che non c'è Ok Fuoco Cammina con me Fuoco Cammina con me Ce l'ho fatta Ce l'hai fatta? Ce ne sono altre? Oh, merda Proprio così Wow Schivata per un Per un niente What? Va via What? E si ricaricano Non è vero Ah Ok Fermo, 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 fermo Fermo, fermo, fermo Fermo Ah, ah, suca Come cazzo si ricaricano? Pensavo non si ricaricassero Compressa Ancora? Madonna Dio Ok Questa l'ho presa Oh, fuck Via Ok, aspetta Questa Poi questa No, 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 no Ok Dove sei, stronzo? Vieni qua Quante volte devo farla Sta cosa? Ancora? Ok Ok Sono salvo Um Um Cos'è quel laser? Mi fido di un cazzo proprio Va bene Cosa c'è qui dentro? Munizioni Giustamente Questo cosa dovrebbe fare? Elena? Una mano, Elena? Elena, che cazzo devo fare? Wait, what? Ok Va bene Vorrei Elena qui con me Ma Hola Ehi la Ciao What the fuck? No, vabbè Ti lascio con lui Ti lascio con lui Tranquilla Qui devo fare qualcosa No È morto? E ora? Acqua Bella Bella E Là sopra Ok Devo fare sta cosa? No Così Era solo per dirmi che potevo farla Ok Ciao zombie Ciao zombie Ciao zombie E la madonna non muore? Cos'è? Ok È morto Bene Eh What? Cos'è sto coso? Ah Uno specchio Ok Uno specchio No No Mi sto Mi sto Ehm Mmm Bene Uno specchio Ti vero La La spara giù di sotto Quindi Ok 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 Niente Va bene Andava bene così Ciao Madonna della tristezza Grazie Siamo di nuovo insieme Elena Sei contenta? Spero di sì Questo è il Cos'è Quell' L'icona Di un'arma? Un'arma Fucile di precisione Grazie Grazie baby Oh yes Zoom R3 Bello 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 Mi piace Qui ci sono i colpi Giustamente Qui Non posso prenderla Giustamente A chi devo sparare? Oh wait No Cosa Oh 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 Ok Vieni Io ti aspetto qua E sbaglio E ora? E poi Queste campane vanno Poi L'altra che deve andare Quale sarebbe Ah questa qua Ehm Fermo Bella Mi sembra che vadano tutte No? Anzi che vadino Tutte Non ce ne Ah no Ce n'è ancora una Sorry Mi dispiace Mi dispiace Sparare C'è un eroe Gleon Mi dispiace Sparare Agli oggetti Antichi Bene Non potevi prenderla Tu Elena Ti pesava Troppo il culo A prenderla A te Penis Cosa? Sì E lo era Lo era una porta Andiamo Cosa cazzo Pensavi che fosse Non lo so Bene Siamo al terzo piano E adesso? Le spariamo lì dentro Le spariamo lì dentro Cos'è che dice sta cosa? Two motherly saints Will reveal the pearl Ok Voglio prima guardare Cosa c'è Là in fondo Però Eh 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 Lo sapevo Bam Di nuovo Bam Niente Non c'era Un cazzo Non c'era Andiamo via Dai una tu Una io Elena C'è un certo inquadratore Che sembra Dary Il cazzo Leon Forse Non dovevamo aprire Ecco Forse non dovresti stare lì Forse non dovresti stare lì Niente Sei morto Non lo so Eh Vabbè Va a cagare Oh What? Cosa cazzo fa Quella roba? Sì ma raga Venite su Dalla scaletta Dove siamo noi No? Non va bene Eh vabbè Volete morire Niente Volete morire Eh Io non so Che dirvi Che Sembra che Vogliate morire Malissimo E Non lo so Ok What? Cosa avevo detto Leon? Attenzione al gas Eh Grazie Elena Grazie Grazie Ok Uno è andato Raga Non so come fare A ucciderlo Dico Forse What? Scusate ma non c'era nessuno lì Non è vero Grazie Ah forse dovrei seguire la mia stessa tattica e andare sopra Cosa cazzo State lontani e lui ci va dentro Ok Oh ok Sono un Un mostro adesso Ma che stronzi Ok andiamo via Elimina tutti i nemici Cioè raga non è vero Non ce n'erano così tanti qui Qui in giro Questo è un nemico Si Io le ho sparato ben due colpi Che non l'hanno Che l'hanno trapassata Bello gioco Grazie Fa sempre piacere Raga Lo vedete vero Non sono pazzo No Ok muori grazie No muori grazie Grazie Morta Morto Morto Ok queste sembrano sopravvivere Questa c'ha una k Cioè Se non sopravvive quella Non so Che dire Oh cazzo Lì Non so che fare Non so Che fare Non so Che fare No Oh Elena Sei buona Non morire anche te Perché qua Se mi comincio a morire anche te Siamo nella merda Ma non penso che siamo proprio Falificati per occuparci noi Ah ok eccolo La gente muore E correte Avete sentito la signorina Correte Niente Di qua non si va da nessuna parte C'è un punto dove posso salire O no Ah qua dentro posso ficcarmi Questi stanno qua a guardare Giustamente Perché non è che Oh Elena dove stai andando Ok ho spargato un colpo Bene Eh Elena Ci andiamo Li lasciamo morire Cosa dici No Non possiamo Non possiamo farlo Non possiamo neanche lasciarli morire Che vita di merda Oh che cazzo Ma sei serio Mi ha distrutto tutto Tutta la vita In In Un secondo Dove Dove Ah qua Da qua Questi sono morti Ok Oh madonna Ne sai che niente Era la vostra Il vostro destino Era morire Raga Spiacente What Ok È morta No Sì è morta Bene Carata incendiaria Cose della vita Altre cose della vita Dove cazzo vai Dove cazzo vai In testa l'ho preso Di nuovo Di nuovo In testa lo prendo raga Io Non ho problemi a prenderlo Però Wow wow Dove è andato What the fuck Vieni qua stronzo Dove scappi Dove corri Wow wow No Oh cazzo Oh cazzo Perché è andato di là Facculo Ne ha preso uno Eh vaffanculo dai Cioè non è che può sparare Che può prendermi col suo velino A caso Cos'era qualcosa che correva Da dove arrivava Ah da qua E giustamente Non ha più compresse io Bene Fa piacere Fa molto piacere Oh wow Ti ho preso Al volo Testina di minchia Al volo Al volo Testina di minchia Testina di minchia Al volo 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 Al volo Testina di minchia Al volo Testina di minchia Al volo Al volo Testina di minchia Al volo